Tra il IV e il V secolo d.C. due fenomeni già in atto da tempo segnarono la fine dell'unità dell'impero romano. Il primo fu il tentativo, compiuto prima da Diocleziano alla fine del III secolo e poi da Teodosio alla fine del IV, di garantire la stabilità politica e di assicurare una più efficace difesa dei confini con una gestione condivisa dello Stato. Diocleziano optò per la tetrarchia, Teodosio affidò ai due figli il governo dell'impero. Nell'uno e nell'altro caso il tentativo di preservare l'unità dell'impero determinò invece la fine di quell'unità territoriale e culturale che i romani avevano assicurato per 500 anni. Il secondo fenomeno è dato dalla pressione esercitata dai popoli stanziati ai confini dell'impero, popoli a cui si attribuisce convenzionalmente la qualifica di barbari. Si tratta di popoli che i romani sentivano estranei alla propria cultura e che appartenevano in prevalenza a genti di stirpe germanica. Rispetto ai secoli precedenti, nel V secolo le loro incursioni nei territori dell'impero si trasformarono in vere e proprie invasioni. Invasioni che di fatto, assieme ad altri fattori di debolezza, determinarono la fine dell'impero romano d'Occidente. La parte orientale riuscì invece a mantenere la propria integrità territoriale e a proseguire la sua storia per circa un millennio.